È una delle cose più belle della mia vita, mi piace leggere ovunque, mi piace leggere per me e per gli altri, è veramente bello. Non ho un libro della vita, ne ho tanti, ma c'è un libro in effetti, perché nella scuola che dirigo la mattina, nella prima riunione con gli allievi, leggiamo sempre il brano di un libro. E il brano di questo libro che viene letto e riletto più volte è il Novecento, perché secondo me è un libro scritto a più mani, non l'ha scritto l'autore solo, l'autore, ma l'ha scritto diciamo con tante mani, come i grandi libri si scrivono con tante mani, è qualcuno che ha visto il mare da un punto di vista quantomeno strano, quantomeno non usualo, quindi è forte. Grazie